Tutte le grandi cose sono magnifici fallimenti, a partire da Gesù Cristo che è stato inchiodato, un fallimento, Cristoforo Colombo voleva scoprire l'India, ha scoperto l'America, fallimento. Che Guevara cosa ha fatto? Niente, gli hanno fatto una foto ma lui in realtà un fallimento, era un asmatico nevrotico, Mozart morto a 34 anni non ha neanche riuscito a finire quello che voleva finire, Sex Pistols non sapeva neanche cantare, Madonna non sa cantare, Madonna è un magnifico fallimento. Pensate al comunismo, tutte le utopie, magnifici fallimenti, tutte le utopie, tutti i grandi sogni sono magnifici fallimenti, l'amore finisce sempre, magnifico fallimento, qualsiasi amore è un magnifico fallimento. Morire, anche quello non è un magnifico fallimento. E il suo? Preferisco avere magnifici fallimenti che buoni risultati.